sabato primo dicembre poche ore fa ma ieri giornata di jump 2018 per la croce rossa ci sono stati workshop workshop assemblè c'è stato anche diciamo il workshop dei corpi ausiliari sul tema sicurezza e vediamo che cosa è successo durante questo workshop ci sono state diverse cosette interessanti parlano gli appunti che vado a leggervi ad un certo punto ha fatto irruzione rocca al workshop sull'emergenza dove c'erano tutte le sorelle con la sorella seminara quella ad interim dopo la fine del mandato della sorella dialuce che era a fianco di rocca in evidente imbarazzo la sorella seminara rocca ha interrotto il colonnello tripodi per una buona mezz'ora e vediamo in sintesi cosa ha detto sono provato da un periodo di quattro anni di difficoltà con fine in ultimo anche la pressione mediatica terribile per fortuna adesso ho una persona fantastica con cui dialogare dice rocca che renderà tutto semplicissimo e gradevole e ha fatto anche la battuta sul nome se devo pur sempre confrontarmi con delle monache ma c'è una grande differenza e poi ha spiegato una cosa che tutti volevano capire diciamo così lui starà fino a tutto il 2020 e adesso inizierà una vera rivoluzione che nessuno potrà fermare e vediamo alcuni aspetti di questa vera rivoluzione i gradi alle sorelle resteranno ma l'ispettrice nazionale non avrà mai più il grado la spallina da generale di brigata avrà le spalline d'argento e sarà la regina delle sorelle rocca ha chiesto a tutti il massimo supporto alla sorella seminara perché ha il difficile compito sottolineato rocca di ricreare serenità e unione all'interno del corpo va bene bisognerebbe chiamare giacchetti in causa la terna dei nomi dice non è stata rigettata ma hanno semplicemente chiesto altri nomi e qui il passaggio decisivo in ogni caso ha affermato rocca la decisione sul nome di ispettrice generale delle crocerossine è sua è sua di rocca che sarà solo e soltanto lui a scegliere la futura ispettrice e ha aggiunto sottolineandolo così dice la legge voi non lo sapete ma è così poi si è portato via seminara sono andati all'assemblea eccetera come commiato ha buttato lì voi siete tante ma solo sulla carta poi sono cominciati gli interventi dopo questo intervento sono cominciati gli interventi previsti in programma e c'era previsto il l'intervento della sorella seminara le sorelle erano 151 soltanto 10 di queste 151 erano le firmatarie di varie petizioni di cambiamento eccetera cose di cui parliamo da tanto tempo la sorella seminara inizia il suo intervento con un ringraziamento la sorella dialuce per quanto fatto e poi si lancia nei soliti discorsi diciamo un po' un po' scontati per riportare i sentimenti di tutte all'equilibrio e alla serenità del corpo a quel punto chiede la parola la sorella meneo che inizia ad alzare la voce e ingiungendo alla sorella seminara di andarsene velocemente dall'incarico di interim vattene via presto perché il taglio con il passato avrebbe dovuto essere immediato definitivo resettiamo tutto il cismo via si va verso la rivoluzione a questo punto si alza anche la sorella romeo e e ha detto anche lei qualche cosa diciamo di urlante poi il discorso si è spostato sulle dieci sorelle che hanno e tutte le altre che però non erano presente che avevano firmato e agito contro il presidente rocca la sorella matteoni prende la parola ma ragazzi questo è un racconto allucinante allucinante cioè siamo nel 2018 la sorella matteoni prende la parola è intima alle dieci in sala di alzarsi e ammettere quanto fatto e darne giustificazioni alla platea ma manco il soviet di beria ma manca il soviet di beria o che ne so ecco il min culpò per andemocratici rispetto a questo ma molto democratici tutte le sorelle incalzano per far alzare le sorelle chiamasi linciaggio che restano immobili sedute e mute dio mio 140 contro 10 e vorrei vedere allora interviene la sorella siena che rincara la dose dicendo alla sorella seminara che se intende agire deve assumere il comando e agire velocemente attuando cambiamenti la sorella seminara in sofferenza cerca di riprendere la parola ma non il controllo della situazione chiude la riunione invitando tutte a fare una riflessione ed erano le 20 passate ora di andare a cena certamente quelle dieci poverette ci saranno andate con lo stomaco chiuso